Una notizia freschissima, nel 2018 si sono raggiunti 10.184 tesserati. Ecco, guardi, la ringrazio di questa domanda perché è un motivo di orgoglio per me. Io sono 12 anni ormai che sono Presidente di questo Comitato, l'ho preso nel 2008, eravamo a 7.500, e adesso superare l'asticella di 10.000 per me è motivo di orgoglio. Non è certamente merito mio, è semplicemente il merito di tanti e decine di collaboratori che io ho a fianco che promuovono bene l'attività sul territorio e quindi abbiamo potuto aumentare notevolmente il numero di tesserati. Questo però implica anche una notevole responsabilità perché, sì, adesso il dato ci soddisfa, ma questi ragazzi che si apprestano, che vengono presso di noi, si aspettano un servizio ben fatto e delle soddisfazioni che si aspettano e che meritano.